buongiorno anche a youtube quindi siamo sia su youtube che qui su instagram grandissimi allora oggi faremo quattro tabata uno diverso dall'altro 4 minuti l'uno 4x4 16 ok con la variante che faremo una cosa bella tosta quindi a ogni fine di un tabata terremo una serie massima per uno dei due esercizi del tabata quindi saranno dei tabata alternati ok prima un esercizio poi l'altro e poi alla fine faremo una serie massima di uno dei due esercizi ciao ross ciao vale ok quindi questo è veramente tosta li metto qua ho cambiato adesso io metterei ok sono già distrutto al pensiero grande claude wow c'è anche debbie super quindi questo è quanto il primo tabata sarà alterneremo mountain climber e plank però non faremo mountain climber plank mountain climber plank faremo le prime quattro serie mountain climber e le ultime quattro il plank ok mountain climber classico plank potete farlo anche in hollow position ok alla fine faremo una serie massima quindi massima ripetizione di mountain climber quindi finiamo con il plank e si parte a bomba con il mountain climber già lo trovo oggi pomeriggio su youtube oggi pomeriggio non te lo assicuro ma sicuramente per domani si dai si va quindi prima quattro serie mountain climber mi giro di questa sarà bella tosta eh due uno ok aspetta che se no youtube non mi vede uno e via quindi prime quattro serie andiamo di mountain climber nei venti secondi dobbiamo farne il più possibile due uno ok 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 dai olé due uno dai due uno ok ok, ci stiamo scaldando, ora facciamo anche la quarta e poi entriamo di plank, dai, contrargo bene l'addome, 2, 1, ok, ora andiamo di plank, così rifiatiamo per fare il max, ok, contrar bene l'addome in plank, ci vedete, 2, 1, ok, purtroppo la ripresa è verticale, ma su YouTube voi vedrete tutto completamente, ok, su YouTube oggi uscirà anche la guida su come eliminare il grasso addominale, quindi andate a vedervela a mezzogiorno, 2, 1, dai, ultima, e poi massimale di mountain climber, 2, 1, ok, quindi ora ci diamo dentro, dai, quanto riuscite a tenere, ovviamente non dobbiamo ammattarsi subitissimo, sperate che non mi vedete, qua scivolo, ok, dai, avrò tenuto tipo 40-50 secondi, ma per iniziare va benissimo, a mezzogiorno cosa? A mezzogiorno cosa? A mezzogiorno uscirà il mio video su YouTube su come eliminare il grasso addominale, quindi vi voglio tutti connessi, saranno 6 minuti di guida pratica e di regole per eliminarlo, dai, primo tavata è andato, come state andando? mezza morta, io lo faccio fra moletta, molto bene, mi raccomando, poi la replica su YouTube raga, ma oggi non era festa? Oggi è festa, ma in realtà io ci sono, allora questa è la metà di alta intensità, grande vano, mountain climber non mi piace, è questione di gusti, che fatica, perché? Perché comunque il 20 secondi 10 è molto tosto di tavata, questo è il vero vero tavata, secondo tavata, faremo sumo squat jump, quindi sumo squat allargo bene le gambe, non è proprio un sumo esagerato, sarà questo, ok? Faremo 20 secondi, 10, con il cycle ABS, ok? Tanti auguri sami che il tuo compleanno! si riparte, io sento già l'addome che tira, è bello caldo, quindi, prima quattro serie, sumo squat jump e poi il cycle ABS, 2, 1, vai! vai! 2, 1, recuperiamo! 2, 2, 1, recuperiamo! 2, 2, 1, 2, ok! squat jump e su uno squat jump, mi distruggono sempre in tavata, vai! l'obiettivo è farne il più possibile nei 20 secondi! dai! ok! io faccio la cazzata di parlare sempre! io faccio la cazzata di parlare sempre! ok! cycle ABS! ok! 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 dai! a la fine creiamo un massimo ed e sai con lo 10! come spetticare ugli.. ! ! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Direi che è tosto! Ciao Cristian! Ciao a tutti! Questo è veramente tosto! Come siete voi? Sumo squat jump, grande Manu, ammazzano quelli! Anche con il sumo squat veramente è tosta! Ti giuro la mescolata fatica grande Luca! Ciao Cri! Che va alle gambe! Che calza e grazie! Rocco dice vivo per ora! Morta! Tosto ma fattibile! Brava viaggiatrice ribelle! Diciamo che secondo me questa tipologia di Tabata, ma anche secondo la scienza, è veramente piuttosto! 20 secondi 10, credo che sia anche piuttosto dei 40-20! Speriamo di faccia che non sono pratica, ma molto bene! Chi non riesce faccia delle versioni semplificate! Ora facciamo in Tabata di push up e rematore! Chi ha delle bottiglie, delle casse d'acqua, usi quelle! Io adesso vedrò se usare l'U-Band! Faremo le prime 4 serie di push up! Tu Samuele devi farne altri 5 oggi! E le ultime 4 di rematore! Ok? Dai! Mi raccomando, fare più push up possibile, quindi chi vuole anche il genocchio ne appoggio! Dai! Tecnica corretta! 2, 1, ok! Recuperiamo! Posso fare il primo recupero con un po' di stretching! Io appoggio le ginocchia, se no non riesco a farle i fatti come si deve! 3, 2, 1, ok! Dai! 3, 2, 1, ok! 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 ho fatto petto e spalle, quindi oggi li sento affaticati. Centro il elemento di ieri. Ok, il rematore andrà molto meglio. Dai, da qua posso prendere gli elastici e fare questa. Ieri ho fatto anche il massimo di push up, quindi mi sento parecchio scarico come petto. Dai. Come sta andando? E' bella tosta, ragazzi. E' bella tosta, ragazzi. E' bella tosta, ragazzi. 3, 2, 1, dai! Bene. Bene. Adesso facciamo il massimale di rematore. Io sento veramente tanto l'allenamento di ieri. Dai. Rematore. Dai. Hop. Ok. Basta. Mi prendo due minuti per andare in bagno a piangere. grande Fabio. Grande Fabio. E' veramente tosta, eh. Ma oggi avevo detto che volevo ammazzare sia me che voi, con tutto il bene. Debby dice che figata, eh sì, è super figo. Però io sto veramente morendo, perché io l'ho fatto un allenamento super tosto e oggi è dura. Con le bottiglie, adesso ve lo faccio vedere. Grande ausilia. Allora, con le bottiglie, mi metto in questa posizione, addome contratto, schiena dritta, e faccio questo, velocità, con le bottiglie, direi anche questa. Perché è un carico molto basso. E' bello perché tante volte provate a scrivere, ma non ce la fate. Devastante. Se lo dice Samuel, ragazzi, che non gli bastava mai nulla. Saluti la mia bimba, che ti sta guardando benedetta. Ciao benedetta. Se qualcuno vorresti un po' il muore mio. Ora abbiamo l'ultimo Tavata. Ok? Quindi, sarà composto da curl con cassa d'acqua, più affondi, sempre con la cassa d'acqua. Ok? E poi alla fine, saremo il massimale di curl con le bottiglie. E poi per oggi, abbiamo veramente dato tantissimo. Rocco dice, vai con l'ultimo. Rocco, ti ascolto. Dai. Cal con cassa d'acqua. Ricordatevi sempre di screenshotare, raga, eh. Dai. Ole. 2, 1 ok scarichiamo curl ancora 2, 1 super calchi eh dai ancora uno di curl 1 ok ora andiamo di affondi se avete i manubri prendete i manubri e li mettete ai lati 2, 1 e via affondo alternato ok dai alla fine massima di curl 2, 1 ancora 2 i tavola te li ammazzano ma non si muorla fino alla fine 3, 2, 1 dai sotto a parte la canzone ok 1 dai ultimo 1 alla grande falle, falle pure con i pesi affondi ora massimale di curl io ho fatto anche i bicipiti ieri quindi petto, spalle e bicipiti dai 1 1 1 2 2 2 1 40 si fratonda dopo questa 2.0 ancora bravo Samuele riparti dal primo giro ok bravissimo Fabio aspetta che vado a spegnere qui ciao Youtube ciao 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 ciao